Grazie a tutti, Madre di Dio, e ai ragazzi noi dei faggioni, avesse nell'ora della nostra bocca e a me. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frusco del tuo segno, Gesù, che fu concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frusco del tuo segno, Gesù, che fu concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frusco del tuo segno, Gesù, che fu concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frusco del tuo segno, Gesù, che fu concepito per opera dello Spirito Santo. Santa Maria, madre di Dio, e benedetto è il frusco del tuo segno, Gesù, che fu concepito per opera dello Spirito Santo. Gesù, che fu concepito per opera di Dio, e benedetta tra le donne, e benedetto è il fruglato è il fruglato è il tuo segno, Gesù, che fu concepito per quello che plu a fare della scuola, Gesù è il fruglio Spirito Santo.